Stiamo passando da una regione che era dal punto di vista della sanità digitale totalmente analfabeta a una regione avanzata e innovativa, questo è un servizio che pochi hanno con il quale si può prenotare una visita in qualunque momento e da qualunque parte e con qualunque strumento, oggi il telefono sta nelle tasche di tutti, un pc, un tablet è sempre a disposizione per la gran parte delle persone interessate ridurre al minimo l'esigenza di dover uscire di casa per andare a prenotare una visita è già un grande passo per una sanità più umana, più vicina ai bisogni dei cittadini che diminuisce il percorso di sofferenza di chi deve fare una cura aiuta e contribuisce anche a semplificare il tema delle liste di attesa per le prestazioni perché questo sistema mette in sinergia tutte e quattro le ASL per offrire quindi al paziente che ha bisogno di una visita il servizio più disponibile nel minor tempo possibile e aiuta anche ad evitare il fenomeno delle prenotazioni che non vengono poi rispettate senza comunicarlo prima quindi con degli slot che quindi vanno deserti mentre magari c'è gente che attende e questa semplificazione anche nel rapporto con l'ASL e con il centro delle prenotazioni aiuterà senz'altro anche questo aspetto